Secondo l'analisi sul mercato del lavoro sul territorio abruzzese, il quarto trimestre 2016 evidenzia una flessione di 3.000 unità tra gli occupati rispetto all'anno precedente. Un decremento dello 0,7%, assolutamente in controtendenza, con il dato nazionale che invece registra un incremento dell'1,1%. A renderlo noto è l'economista abruzzese Aldo Ronci. Nel dettaglio il decremento è frutto di due variazioni di segno opposto. Una flessione di 12.000 unità dei dipendenti e un incremento di 9.000 lavoratori autonomi. Un'analisi basata sui dati resi noti dall'Istat lo scorso 10 marzo. Se decresce il numero dei lavoratori dipendenti, a crescere invece sono gli occupati in settori quali l'agricoltura 1,2%, costruzioni 5%, commercio e attività ricettive 5% e il decremento invece più consistente avviene nell'industria con un meno 11%. Intanto questa flessione è attribuibile di più purtroppo, infatti è molto grave, non all'industria ma al settore dei servizi. È quello sul quale noi stiamo ancora perdendo posti di lavoro. Per quanto riguarda l'industria, per la verità, il risultato è migliore, anche se pure dentro l'industria bisogna stare molto attento a leggere i dati, perché il risultato comincia a essere positivo per quanto riguarda il settore medio-grande imprese, nonostante ci siano ancora tuttora aperte moltissime crisi, cosa di cui ho una certa testimonianza diretta, ma rimane una enorme sofferenza nel settore artigianato piccola impresa. Lì c'è un problema serio per quanto riguarda l'industria, poi c'è il problema dei servizi. Questo è effettivamente un dato in controtendenza ed è un dato sul quale bisognerebbe riflettere e approfondire. Aggiungo che io temo che dopo quello che è successo nell'ultimo periodo anche il dato del turismo possa riservare qualche sorpresa amara.